Pasquale è un artista che osservava il Mediterraneo, l'osservava parecchi decenni fa e quindi era un Mediterraneo molto differente da quello che possiamo osservare oggi. È un Mediterraneo che non ha un punto di vista unico, cioè da questa parte di mondo, ma ne ha multipli di punti di vista. Quindi l'idea di includere Pascali è un po' per ricontestualizzare il Mediterraneo da un punto di vista contemporaneo, ma è chiaramente legato soprattutto alle rotte migratorie del Mediterraneo centrale. Poi ci stiamo con l'aggiunzione. Sì, ma pure questa si vede. Ecco, a tutti gli effetti di tributo è anche una rilettura. Abbiamo avuto molte difficoltà inizialmente, come spesso ci accade, noi essendo un duo quindi c'è una grande discussione, a trovare le opere degli aspetti visivi che erano conti nel Mediterraneo. E Pascali qua è stato quasi un'epifania, direi, dal momento. Ovviamente conoscevamo il lavoro, ma entrando, avevo detto, questo è esattamente lui.